E' uno spettacolo, come potrete vedere, di fachirismo, io sono un fachiro, ma ho una particolarità, non mi piace fare gli spettacoli da solo, quindi chi ha già visto il mio spettacolo lo sa, sarà uno spettacolo interattivo in cui chiederò a alcuni di voi di partecipare, lo dico prima così chi non è d'accordo se ne va, gli altri potrebbero essere tutti chiamati a partecipare. Grazie